Per cui lo ecco tantissimo, fin da piccolino ma se quando vedo, analisi logica a parte 8500 complementi dici che cacchio ci serve, che sia di agente, di causa, efficiente, di specificazione non complemento il D, c'è il D e c'è qualcosa dopo però ha senso che lo impari ma dovessi imparare di più ad usarlo piuttosto che a cosa serve però vi parlo 10 compiti di grammatica poi vi farò un tema 3 perché non riesci a metterli in fila all'altro mancano altri due bisogni perché uno può fare una vita tranquillissimamente meravigliosa così ma se siete qua, vuol dire che avrete altri due che sono? il bisogno di crescita e attenzione, non è vero che tutti gli esseri umani non sentono questi bisogni qua io posso arrivare ad un punto della vita in cui dico parlavamo di appiattimento degli insegnanti in cui sentono che non crescono più nel loro lavoro e dicono, vabbè ma anche noi come esseri umani può essere un momento della vita e diciamo, vabbè perché devo fare cose continuate quindi non è mentre qualunque di questi ci caschiamo anche se andiamo a bere un caffè con gli amici può essere che voi abbiate anche io a me capita di avere delle relazioni di amicizia con alcune persone in cui la crescita non è inclusa ok? magari c'è più sicurezza c'è... l'esagerazione del giorno di sicurezza è l'abitudine ok? l'esagerazione del giorno di importanza è l'emocentrismo ok? ma la crescita non è detto che ci sia in tutti gli ambiti della terribile ok? io vado a pensare se uno fa il lavoro del genitore è importante il tuo sociale sempre sott'occhio perché si cresce in cui i ragazzi crescono per noi e c'è l'ultimo è quello di contribuire quindi contribuire alla crescita di qualcun altro io so delle cose cerco di contribuire alla crescita di qualcun altro attenti io conosco tantissime persone che non fanno lavori come il mio che contribuiscono alla crescita anche un netturbino può contribuire alla crescita di un altro pensate a quanto i nonni anche se facevano i contadini ci hanno fatto crescere e hanno contribuito alla nostra crescita quindi per avere una vita più soddisfacente ovviamente anche questi due sono da tenere nel conto sapete che i ragazzi tante volte non studiano? perché non lo sentono questo qua non sentono di crescere mentre studiano che non stanno contribuendo a niente come si fa a motivare la crescita? impara a crescere tutto nel senso non c'è da fare la coerenza in questo periodo storico non puoi far fare niente agli altri se non lo vogliono fare ma potrebbe essere un'idea lo stai già facendo come contribuisce alla crescita perché sei venuto a prevedere se c'è qualcosa che ti fa crescere che ti fa evolvere leggete 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 cresco io vedo delle cose diverse e posso non dirle ma farle domani sera per esempio non ho ben capito dov'è sta serata qua fanno non sgridare senza urlare però è un libro di Novara vanno chiedendo domani sera da qualche parte urlare non serve a nulla per esempio quella potrebbe essere una buona attenzione di crescita quindi neanche vi parlo solo di me ci sono persone tanto più bravi di me o che abbiano abitudini diverse dalle mie io credo molto che se voglio far capire per esempio a mio figlio che urlare non ha senso comincio a non urlare se voglio farti capire che studiando cresci qual è la cosa più facile da fare? mi presento con un libro leggo io faccio delle cose utili per me e mi vedono che quando mi chiedono le cose non mi giro perché sono super concentrato su quello che sto facendo mi stanno disegnando per la concentrazione una cosa importante ok? e lo vedono per esempio una cosa che dico spesso anche con i compiti per casa quando fanno i compiti sentono che hanno bisogno di voi vicini tenetevi vicini ma fatevi dei vostri leggete qualcosa mentre loro leggono se poi vi chiedono e siete risposti rispondete allora credo sia nel libro la scuola mi piace un'indagine che hanno fatto in Danimarca in cui abbiamo verificato che otto prendiamo un disturbo dell'apprendimento ogni dieci ragazzi che hanno un disturbo dell'apprendimento otto arrivano da famiglia in cui ci sono meno di undici libri in caso provate a immaginare se io sono abituato a non leggere il mio figlio crescerà abituato a non leggere allenerà meno la lettura questo non vuol dire che sei dislessico se è dislessico, 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 dislessico rimane ma ci sono un sacco di dislessici che cominciano a leggere delle cose e i dislessici lo saremmo solo per la scuola ma sanno leggere per la loro vita di tutti i giorni fate immaginare quando un ragazzo dislessico che abbia comunque un discreto rapporto con la lettura bypassi il problema se un ragazzo dislessico invece vede che ha grandi difficoltà di lettura attorno alle persone che non leggono perché verosimilmente uno dei due genitori lo è a sua volta è difficile per quel bambino capire quella roba di una roba bella questi due ribadiscono sono obbligatori però sono carini faccio sempre dalla parte degli insegnanti quindi non è la mia per la parte di quelli che a volte sono considerati dimensi dalle famiglie sono insegnanti a voglia di contribuire e a voglia di crescere assieme ai propri ragazzi i voti potrà essere anche la persona più dura del mondo dai voti più brutti del mondo ma se i ragazzi percepiscono questo pensano che lo sta facendo come motivo io so che lo ho pensi di un po' pensi di un piatto se dall'altra parte non c'è questo se io te ne ho un motivo ti faccio capire che questa cosa è veramente per il tuo bene anche se a volte io sono più per l'idea del ti do sempre 5 fai un compito da 5 e mezzo io ti darei 6 e vediamo cosa succede perché a volte premia un po' di più tanto se vuoi dare 5 in pagina alla fine glielo dare lo stesso ma prova a premiare vediamo cosa succede dando un minimo di soddisfazione ma credetemi che ognuno di noi ha avuto degli insegnanti duri degli allenatori la vita è dura ma la vita contribuisce tantissimo alla nostra crescita si o no? il bene è significato che noi o le cose che capitano ma se un insegnante è duro e mi fa capire che questa roba qua la fatta che stiamo crescendo vi assicuro non c'è un ragazzo che pensa al voto come una critica pensa al voto e gli dice e a un certo punto dici basta mi odia ok? è capitato anche a me io la ringrazio tanto per la mia professoressa ma tu hai detto che non ti sei messo a studiare no no mi metterò sempre a studiare alla fine solo che alla fine non può tutti gli anni funzionare alla fine mi metterò sempre ma non c'entra se tu mi dici adesso ti interrogo su tutto il programma e io mi preparo su tutto il programma me l'hai detto tu per darvi la sufficienza ti interrogo su tutto il programma lei poteva fare a me non ti fare quella roba lì mi avrebbe bocciato comunque no? ma se mi dici ti interrogo su tutto il programma preparati Cicerone per lunedì e io Cicerone lo so da 10 e tu lo sai che lo so da 10 e mi chiedi Ovidio che l'hai spiegato il giorno pubblico il sabato e non è che mi dici ti do 2 su Ovidio e 10 su Cicerone ma mi dai impreparato allora vuol dire che tu volevi farla pagare in qualche modo e cosa l'ho fatto io? ecco hai mollato ho mollato e quando i ragazzi si trovano più volte a queste cose mi viene da mollare cosa bisogna fare? dico che è umano e non dovete fare niente se spingete rischiate di litigarci questo non vuol dire non vi interesso di mio figlio se molla e non avere l'assoluta certezza che se mollano non cambia la vostra relazione e tante volte cambia è quello che crea così quindi se mollano è assolutamente umano a voi che non hai capitato di mollare? dai capita non fanno mollare non è un fallimento può essere che stanno mollando una cosa che gli sta dando troppa sofferenza a voi ah guardati io quando sono stato bocciato soddisfaccevo tutti questi bisognini mi sentivo in contatto con i miei compagni in classe perché gli facevo ridere ogni volta che succeda una roba che mi sono stato preparato rimanevo sicuro poi io so dovevo usare quello stato time mollì che funziona tantissimo chi non è preparato è sempre meravigliosamente tranquillo chissà che non ho studiato niente per quelli che si agitano non hanno studiato niente secondo me non c'è qualcosa che non va varietà tantissimo ogni volta mi devo diventare una nuova mi sentivo di crescere no questi due no ma questi quattro si no contribuivo alla felicità degli altri ok però questi quattro le soddisfaccevo tanto e quando questi sono soddisfatti a un livello alto e non cambi mica eh perché per me andare bene o andare male stavo meglio quando andavo male cioè è paradossale come cosa non so se vi può tornare io mi sentivo più al centro dell'attenzione più importante perché il mio bisogno più forte era questo quando ma provate a immaginare il secchione non è al centro dell'attenzione come quello che va male quello che va male è sempre pum pum va suonato e glielo fai notare glielo fai rinnotare gli dai la nota e questo più gli dai nota più si sente importante smettila e non lo cagare se uno disturba non lo considerare se io fosse un insegna prova cambia perché l'esperimento è una strategia nuova ok se ogni volta gli dici vedi per colpa tua non mi ascoltano visto per una frase che qualcuno non ha mai sentito per colpa tua non mi ascoltano la classe di qua questo senti diventa Alessandro Magno cioè che dice ah guarda ho il potere di farli energosire si energosiscono anche tutti cioè uno ha bisogno di importanza minimamente se può prendere la nota e prende tre ok è così si si è così se invece gli riesci a far capire come può trovare l'importanza in altre attività rispetto a... o dategli meno importanza è questo questo bisogna imparare una fregatura togliete importanza alla scuola alzate importanza alla persona non vuol dire la scuola non conta vuol dire che la scuola comincia a diventare una cosa dei vostri figli i vostri figli sono i vostri figli date l'importanza per quello che sono non per quello che fanno non ho... non c'è la bachetta magica poi e può capitare che quando prova a cambiare strategia venga bocciato facciamo un esempio viene bocciato e lì dici ecco vedi era meglio quando ero più presente si nel breve termine è vero nel lungo può capitare che una negoziatura sia un anno di grande crescita si sicuramente può capitare che era un anno di grande crescita per tutti perché si insegna a non usare la pecca rossa sempre hai sbagliato ovvero sei sbagliato che sono le quali trovati in un libro uguale dei due però beh Anthony Robbins è l'autore che è il grande guru degli anni 80 l'uomo fatto da solo che ha creato tutti i mille mille corsi più ricchi del mondo ma Anthony Robbins per farvi capire uno che cosa veramente poco che è stato consulente della Casabianca per puntissimo motivo è stato allenatore mentale di un sacco di tenisti di un sacco di sportivi che possono pagare il suo consulente c'è chi riesce a pagare Alessandro Rocco c'è chi paga Anthony Robbins quindi quello che paga Anthony Robbins ha più soldi oggettivamente per farvi capire questo Anthony Robbins è uno che una volta è arrivato uno scrittore lì l'idea è trovata un blocco cioè non riesco più a scrivere non riesco più a produrre niente era uno che scriveva romanti interessanti non riesco più a scrivere niente ha fatto un po' di lavoro e l'ha fatto lavorare tanto su queste cose qua dei bisogni questo ha scritto un libro questo è una Jurassic Park dopo che ho lavorato con lui lui si chiama Michael Critton questo scrittore che poi adesso non c'è più qualche è mancato ma quando ha cominciato a rimettermi in ordine quelle robe lì ha scritto una roba che adesso riuscirà ad un altro Jurassic Park uno scocatore ieri al cinema mi immagino già mi immagino già mi immagino mi immagino giusto per capire che chi ha bisogno di varietà vuole anche differenziarsi tante volte dagli altri tutti i miei amici guardavamo Dragon Ball io sono io ma neanche per sbaglio io perché mi volevo sentire diverso dagli altri è anche importante quindi il punto di fare fate in modo che sbaglino e poi voi siete bravi a curare le ferite non a buttarci in sale se sbagliano e buttate in sale resta problematico libro è allora ce ne sono due come ottenere meglio da sé e dagli altri tenete presente che è scritto per gli americani e con l'idea dell'unipotenza degli anni settini anni settanta anni ottanta vuoi vuoi però vi da degli spunti interessanti ce n'è un altro volete il titolo ve lo darei in inglese in inglese era bellissimo no aspettate vi faccio capire come noi italiani che sono davvero meravigliosi il titolo in inglese awake the giant within quindi risveglia il gigante che entra qui ti motivi solo a leggere il titolo è vero o no? in italiano è stato tradotto così come migliorare quanto stato mentale fisico finanziario ti giuro awake the giant within metate come migliorare quanto stato mentale fisico finanziario due libri molto grossetti però avete visto Amore a prima vista? si chi l'ha visto? Amore a prima vista è quello di Jack Plepper che vedeva sempre ah si lo ricordate 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 in realtà è grassissima è presente quello lì in ascensore quello è il nuovo norme comune quello è l'entoli lo ricordate quello lì che dice ecco lì uscite quello lì ecco l'entoli quindi un personaggio per farvi capire per quattro cinque sei di la persona una volta detto questo vi ringrazio per l'attenzione credo di avervi dato praticamente di tutti per chi non avessi dati che vuole partecipare ad altre serate avete un foglietto dove potete lasciare la vostra in mail e vi inviteremo ad altre serate che saranno no prossimo anno no in realtà il 19 maggio 5 maggio sono a Montecco quindi si vuole venire fino lì hanno scuoto ho fatto un'altra serata è l'ultima dell'anno 5 maggio martedì prossimo ma c'è nel volantino c'è in un volantino se scriviamo va bene comunque il 5 maggio pubblicherò mentre il 19 maggio è giugno 12 in questi giorni qua farò due webinar che sono corsi online fondamentalmente vi mangio il gelato e col cellulare vi guardo il corso quindi è più estiva come roba posso guardarmi una piggia al vino all'aria aperta semplicemente basterà registrarsi a una piattaforma è gratuito totalmente con la roba il 19 maggio è il primo poi l'altro dovrebbe essere 12 ma non ne sono fermo il 19 maggio è un giovedì allora tanto se uno può dire lo resista non lo resisto e quindi ve lo posso inviare anzi credo che lo invierò a qualcuno avevo promesso a cumulo di invitarlo di inviarlo allora detto questo in realtà vi ringrazio per l'attenzione andiamo via perché questo qua veramente sarà dentro non posso andare da grazie di tutto ci vediamo eh giovedì 19 marvedì 19 l'altro è giovedì giugno l'ultima settimana in scuola ok scuola finisce il 10 10 10 quella settimana lì ok ciao a tutti eh mi parerà forse vicino all'enamente al carro fanno Spegni